Con la stagione primaverile che si avvicina si apre anche la lotta contro gli animali infestanti degli alberi come la processionaria del pino. A tale scopo l'amministrazione comunale di Capaccio Pestum ha disposto le indicazioni obbligatorie da effettuare per combattere efficacemente questo insetto. Questi insetti infestanti possono avere effetti negativi sulla produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree ma anche su persone animali in quanto le larve di questi insetti sono particolarmente pericolose se avviene un contatto con la pelle. Il comune di Capaccio Pestum ha ordinato obbligatoriamente a tutti i detentori di aree verdi e amministratori condominali di effettuare tutte le verifiche necessarie sugli alberi e dimora nelle loro proprietà entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza avvenuta in dato odierna. Nel caso si riscontrasse la presenza dei niti di processionaria sugli alberi si deve procedere immediatamente all'asportazione dei rami infestati e in seguito alla loro distruzione tramite fuoco in aree sicure. Inoltre l'amministrazione invita a segnalare all'ufficio comunale la presenza di nidi al fine di controllare la diffusione del fenomeno.